Discutiamo di sicurezza, delle modalità di lavoro, delle leggi che impongono ai pescatori di indicare con anticipo il giorno in cui si rimane a terra e che spesso li obbligano ad uscire anche con un mare pericoloso. E' questo l'appello che arriva dal sindaco di San Benedetto Giovanni Gaspari nel giorno dopo la tragedia del peschereccio Iris in cui è morto Francesco Voltattorni. Dobbiamo ragionare sulle cause che portano a queste tragedie perché non c'è una ragione particolare per cui 5 imbarcazioni hanno avuto vittime negli ultimi 4 anni. E' un numero, è un tributo di vite troppo alto che la comunità sta dando a questo mare e quindi bisognerà ragionare. Bisognerà ragionare con gli interessati, con quanti fanno questo lavoro duro, un lavoro rischioso, un lavoro pesante. Però bisognerà ragionare sulle condizioni di lavoro e soprattutto sulla sicurezza. Occorre allora prendersi il tempo e lo spazio per una discussione serena fra tutti gli attori del settore pesca, capire se le normative possano venire incontro ai pescatori e soprattutto se possano permettere loro di lavorare con maggiore serenità e senza rischiare la vita. Oggi le giornate di pesca si sono ridotte, si sono ridotte anche drasticamente a tre giornate alla settimana. Ci sono delle metodologie con cui si affrontano queste giornate di pesca che probabilmente necessitano di essere ragionate, ridiscusse. Io mi sono permesso di fare questo appello alla marineria, all'autorità marittima, quindi alla Capitaneria di Porto, agli armatori, un po' a tutti, perché insieme con la disponibilità del Comune, con la disponibilità spero di tutti, insieme si possa ragionare in modo sereno, senza nessun tipo di voglia di fare polemico o altro, perché credo che nel momento del dolore e del lutto la cosa più importante è quella del rispetto e del silenzio, che ha molte più parole, insomma di chi di parole ne butta tante al vento.